Una lettera al prefetto e al sindaco di Salerno per chiedere con urgenza di convocare un tavolo con il patron lettieri per chiarire della chiusura del centro commerciale la fabbrica della zona industriale di Salerno. Lo stop dell'attività non è un fatto privato ma una vicenda pubblica perché la proprietà dell'ex MCM ha beneficiato di fondi pubblici e deve essere garantita una continuità lavorativa. Così questa mattina Lorenzo Forte che con le associazioni salute vite help tutela e sostegno dei consumatori ha tenuto un incontro dinanzi alla struttura per discutere del fallimento del progetto imprenditoriale del gruppo lettieri. Un incontro dove non hanno fatto mancare la loro presenza i lavoratori dell'ex MCM che proprio ieri mattina sono stati i protagonisti di un presidio. Non è una vicenda privata, è una vicenda che parte nel 2003 quando il comune di Salerno con una delibera di consiglio comunale dove io votai contro, decise di regalare al lettieri il doppio degli indici di edificabilità per costruire al posto delle cotoniere meridionali l'MCM un centro commerciale con il doppio di cementificazione con l'impegno già dal 2003 di garantire per sempre i livelli occupazionali. Quindi è una storia che viene da lontano è un fatto pubblico di fondi pubblici, di finanziamenti pubblici, pertanto il livello occupazionale di questi lavoratori non può essere una vicenda privata. Il comune deve essere in prima linea a garantire il lavoro con questo imprenditore che ha avuto solo fino ad oggi dal pubblico e dalle fabbriche ai finanziamenti e non ha dato un futuro e un lavoro. Presente stamani in via Tiberio Claudio Felice è anche il consigliere comunale di Salerno Giampaolo Lambiase che da sempre si è mostrato dubbioso sul progetto che avrebbe coniugato commercio, divertimento e benessere e che oggi mette alla porta tanti lavoratori. Un fallimento annunciato per il consigliere comunale che ha ricordato una delibera del comune di Salerno con la quale i proprietari dell'ex MCM si impegnavano con una convenzione a mantenere la mano d'opera. Questa convenzione, questo contratto firmato e deliberato anche dalla giunta comunale in effetti non è stato rispettato. Il permesso di costruire sia della fabbrica attuale sia del centro commerciale al posto dell'ex MCM era legato strettamente a questo contratto, a questa convenzione, questo accordo fatto con il comune. Allora il comune credo non possa lavarsene le mani, non è una questione privata, hanno avuto delle autorizzazioni a costruire diciamo superiori a quelli che erano gli indici permessi nella zona. Se rispettavano questi termini di contratto il comune deve mettere in mora la proprietà della ex MCM per la fabbrica e le nuove cotoniere meridionali e a mio parere chiedere addirittura i danni. 35 posti di lavoro persi che possono essere recuperati, così stamani anche il sindacalist Angelo Rispoli, segretario provinciale del sindacato CSA Fia del Salerno, che sta seguendo l'avvertenza dei lavoratori delle pulizie, che ancora una volta ha ribadito ai nostri microfoni la necessità di avere un incontro con il presidente del gruppo Giuseppe Lettieri. Sì abbiamo con la nostra presenza ringraziato l'iniziativa delle associazioni che stanno contribuendo insieme a noi a creare l'attenzione, bisogna che non cada il velo del silenzio, c'è la possibilità concreta di garantire 35 posti di lavoro a Salerno, se prevale la congiura del silenzio perderemo dei posti di lavoro, non deve avvenire. In questo momento si chiede a Lettieri un incontro per capire un attimino il da farsi? Certo, ma un incontro che deve avvenire con tutti i soggetti, cioè nel senso che l'amministrazione deve convocare noi e Lettieri, come fu scritto nella convenzione, e a quel tavolo chiedere conto e ragione in maniera tale se c'è volontà di continuare l'iniziativa imprenditoriale, i tempi e gli strumenti per continuarla o nel caso contrario l'amministrazione deve decidere il da farsi.